Buonasera ragazzi bentorni su canale e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui con un po' di gente che adesso vedrete a schermo per fare l'età della pietra tranquillamente in una personalizzata così. No tranquillamente in un brazzo proprio. L'abbiamo messa senza limiti di tempo adesso messo tipo dieci minuti ci siano stati po' 50 minuti. Cominciamo? Già sento spari inizio a vedere persone e sta cosa non mi piace. Giulio no Chiamarini. Giulio inizia già a umiliare Giulio umiliare giusto per far capire chi è che comanda. Io che comando. Il punteggio è perché non trovo pietà della pietra nella playlist normale diritto e dopo mezz'ora trattore di ossono che era tanto diverso giulio miliardo fermi e sacco un lato alene io iniziando a ritene scherzando ma ho visto una per cento e pensavo fosse un un po la grande carino primo non ho fatto proprio per me che schifo aiuto chiede tutta sta gente e dov'è giulio un atto di cazzo la chiara fatevi che sempre il tipo perché voi farà carmine che provo umiliarmi di appiace di l'aero io tra l'altro carmine non era carmina su che ho flashato un manichino ho visto un'umiliazione perché per me primo ragazzo ho trovato una freccia di preferenza sempre più vi però sono sempre ultimo affanculo perché tu mi ero perché ti umiliano perché sei tu e quindi ti umiliano sei primo cosa vuoi prendite le mie frecce e sei zitto anche no basta ah ok pensavo fosse l'umiliazione ma me l'ha presa male ma che paura ho visto il tomahawk volare e poi sono morti ma io 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 ti ripeto ma vedo la gente morire e poi scopro che non ci sai io tipo scambi storie aiuto tipo ora tu ho preso col tomahawk no 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 questo te l'ho tirato come in bocca mi spiega come non l'hai preso sì ma io confondo i manichini per te perché c'hai te le skin uguali ovviamente no 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 casissimo l'ho tirato pure male l'ho tirato pure male non so dimentica chi è Giulio ero a zero tanto che schiencia Giulio questa è la domanda più più quella di ieri è il messicano ancora eccolo il messicano vaffanculo Chiamarini ancora lui sempre io farei Chiamarini e Giulietta è fortuna che ah è vero tu sei lo specchio di merda che sia Chiamarini Mentre fu ucciso no eh me l'aspettavo no no però che non è possibile ma chiamarini guardalo che guarda Giulio che vorrà non c'è a caso mentre io inseguo la gente io mi confondo sto ancora con le skin di ieri non mi ricordo chi è chi ah 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 perché io inseguo Giulio risponde secondo dopo me lo trovo dietro perché non lo inseguo bene perché magari non sta vincendo con me e tanto ero già a zero Chiamarini non è che spazio dove è Chiamarini dove è perché non lo vedo guarda lo zitto oh grandi oh mio cari no era un sacco concentrato per capire dai cari che succede tanto già mi hanno già cos'è chi è primo croczi mi stavo sparando questo non era era Chiamarini indovina chi mi omilia basta Chiamarini sto uccidendo Crotti fatti gli affari tuoi no bravo Giulio oh raga ho filato l'entrata nel bus eeeh quanta gente guarda guarda c'è Riccardo che era l'unico che non voleva uccidere ho sentito il rumore della penso non ho pensato che chiama aiuto mi è piavuto un giulio morto in faccia ah carmine infame questa è la vendetta di prima mi chiamo quanto ne vuoi per morire proprio ci andiamo a umidare Giulio allora dove sta il birbante io mi nascondo vabbè o Riccardo amore io mi confondo Giulio con Chiavarini no Giulio con Crotti ma va col coltello balistico incredibile scherzo non ho fatto solo questo è Giulio no io con Stelte me devo concentrare che sono guarda guarda allora Riccardo porca micela le vuoi piaste frecce oh e non mori ma anche te però eh ho visto un invisibile passarmi davanti ah ma c'è l'invisibilità non il coloso allora ho un po' sprecato no come ho fatto a non prenderti si grazie come ho fatto a non prenderti my tom walk ciao madonna oh chiamarini che si lega sempre lui è incredibile cioè non è possibile comunque sempre chiamarini ecco se impari a provarci va bene eh o tu non c'è prova io non c'è prova quanto si si tra l'altro ho visto crotti e tommy e ho tirato il tom walk in mezzo in mezzo dove non c'era nessuno tra loro due in mezzo la tirata ma rimbaccia quella Giulio quella Giulio fermo ti è la invita no no dov'è dov'è collaboriamo Riccardo dov'è ma guarda che è Riccardo primo ah si ah si cazzo ah è vero ma sei un mostro il coltellino balistico questo fa pochissimi kill rispetto al solito un pochissimi ma fa 150 mazza no come non sei morto qua spiegamelo più 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 ho visto Giulio che si affaceva molto nì 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 dov'è Giacomo ah doi che sei lì dietro pezzo di merda dov'è Riccardo dov'è Riccardo metta a camperare questo è Giulio perché quando cerco Giulio trovo Riccardo e quando cerco Riccardo trovo Giulio è Riccardo che ci dava schiavarini è rotto lo scazzo eccolo è lui è lui no dove è andato dove è andato no non è lui perché l'avevi ucciso Giulio ha evugliato sì bravo Giulio vabbè guardate guardate adesso adesso inizio io a umiliare ok voglio adesso poi ridete ancora ma fatevi che altri vostri una volta buona eccolo Giulio vabbè però te lo uccidi eh l'ho umiliato ma l'ho umiliato ma sai io potrei anche scappare per 40 secondi eee ma invece no perché facciamo vincere carmine no siamo gli scopi ahhh dove è dove è ma possiamo gli scopi scappa scappa no no te Tommy Tommy fa un po' schifo Tommy fa un po' chi sei tu ha diventato tutti da me no 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 si grazie che mi ha ucciso io avevo tirato io avevo tirato il tomowoc dopo ho realizzato da dove è dove è non ce l'ho io ho usato la parola di me dove è raga chiamatelo chiamatelo eh sta qua aiuto un secondo aiuto scappa scappa siiii no 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 quindi a sto giro ha vinto sto sto bufo ha vinto Ted con i forti no perchè scappava in realtà scappava lì e lui non se ne accorgeva ma perché scappava e basta quindi mi raccomando si ti quindi mi raccomando se il video vi è piaciuto te la like commentate iscrivetevi passate dai social che come ogni volta sono qui sotto in descrizione noi ci vediamo domani e dal bellissimo ciao e iniziamo già che hai sui difficoltà quindi se il video vi è piaciuto mi raccomando commenta cosa che amaro quindi se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate la like commentate iscrivetevi passate dai social che come ogni volta sono qui sotto in descrizione noi ci vediamo domani con un nuovissimo bellissimo sito video ciao 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 la tua luce è mia